Mi voglio divertire con lo Yucatan, il Project One, poi su a 50 metri con la Shocking Tower E adesso sta a sentire, c'è una novità, ci si diverte al ritmo di Rock'n'Roll Adrenalina, pura adrenalina, provincia di Livorno a Castagneto Marina Attento alle emozioni, puoi non leggere l'impatto, sei al cavallino matto